Matera 2019, 25 aprile e primo maggio. Come è cambiato l'afflusso turistico? Beh, è cambiato moltissimo rispetto agli anni precedenti. Ovviamente tutto questo è dovuto alla grande notorietà di Matera oggi come capitale della cultura. Quindi grande interesse e grande attenzione da parte soprattutto di un pubblico di carattere internazionale. Oggi assistiamo a numeri davvero incredibili di affluenze di persone che vengono e non solo per un giorno ma che risiedono più di qualche giorno qui a Matera. Quindi devo dire che possiamo ritenerci ampiamente soddisfatto dell'affluenza e del numero di visitatori che vengono da parte di tutto il mondo. Soddisfatti anche per la presenza dell'APT qui a Matera? Beh, l'APT sta svolgendo il suo ruolo, un ruolo anche importante. Siamo qui in una sede dove abbiamo dedicato all'intera città di Matera ma non solo all'intera Basilicata. È un luogo dove poter conoscere, avere informazioni della città di Matera, delle cose da vedere, delle cose che accadono quotidianamente ma non solo di quello che accade quotidianamente in tutta la Basilicata. Quindi conoscere le bellezze, la storia, la cultura, le tradizioni di un'intera regione.